Chiude il concerto lo Stabat Mater di Gioacchino Rossini. Come l'autore del Barbiere di Siviglia e di tante altre opere gaie abbia potuto comporre un'opera così carica di pathos e di straordinari accenti patetici, sembra ancora incredibile a molti critici. Ma il fatto è spiegabilissimo. Il genio, il genio vero, non conosce ostacoli, per cui Rossini, che tale era, poté compiere quel miracolo che lo stava, una delle più sublimi pagine di musica sacra che la mente umana abbia creato. Ogni altro commento lo guasterete. Ascoltiamolo in religioso silenzio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.